Oroscopo del giorno, lunedì 29 marzo 2021 Ariete Amore, in questa giornata potreste avere un po' di problemi nel rapporto di doppia. La settimana infatti non inizierà per tutti nel migliore dei modi. In una relazione o in una nuova conoscenza qualcosa potrebbe non risultarvi troppo chiara. Lavoro, occhio alla stanchezza perché oggi potreste sentirvi piuttosto stressati. Toro, amore, il lunedì di fine mese non porterà delle grosse novità nelle storie d'amore. Con il partner tutto finirà abbastanza liscio anche se durante la settimana potreste dimostrare un comportamento non troppo carino nei confronti di chi vi sta accanto. Lavoro, l'atteggiamento sul posto di lavoro potrebbe non essere dei migliori. Non tutti condivideranno i vostri pensieri. Gemelli, amore, le stelle di questa giornata saranno abbastanza tranquille per voi. Con il partner o con una nuova conoscenza non ci saranno particolari problemi. Potrete quindi continuare a fare dei passi in avanti con la vostra dolce metà. Lavoro, potrebbero esserci delle novità e delle occasioni da non sottovalutare affatto. Cancro, amore, la nuova settimana inizierà in maniera abbastanza serena per le emozioni e sentimenti. Si potrà infatti vivere una giornata in buon equilibrio con il partner ma non si escludono nemmeno i nuovi incontri per chi ha il cuore libero. Lavoro, in questo lunedì agirete seguendo il vostro istinto che tra l'altro difficilmente si sbaglierà. Leone, amore, l'umore di oggi sarà buono e positivo e quindi potrebbe influenzare i rapporti affettivi al meglio. Questo vale a dire che con il partner potrete godervi un momento ottimo. Eppure i single potranno contare sulle stelle di questo ultimo lunedì di marzo. Lavoro, sarete molto determinati a metterci del vostro e ad impegnarvi per raggiungere i vostri sogni nel cassetto. Vergine, amore, questa giornata di fine mese inizierà in maniera tranquilla e serena. In fondo tutta la settimana si svolgerà in modo equilibrato per i sentimenti. Saranno gli ultimi due giorni, il sabato e la domenica, che vi preoccuperanno un po' di più. Lavoro, continuerete ad impegnarvi nei vostri compiti professionali senza troppi problemi. Bilancia, amore, questo lunedì di marzo vi servirà per riflettere prima di prendere delle importanti decisioni. Sarà una settimana in cui dovrete farvi avanti in una relazione, in un rapporto nuovo, ma non solo. Il timore sicuramente non servirà a nulla. Lavoro, anche sul posto di lavoro potrebbero esserci delle scelte da fare. Scorpione, amore, procedete con calma, soprattutto se avete conosciuto qualcuno ancora da poco tempo. In un rapporto non c'è bisogno di mettere fretta, anche perché un sentimento crescerà man mano. Pure per le coppie, niente esagerazioni. Lavoro, se avete un progetto professionale dovete prima pensarci, poi agire. Sagittario, amore, dopo un periodo un po' caotico adesso le cose andranno decisamente meglio con il partner. Le coppie stabili inizieranno a fare dei programmi di coppia per il domani. Molto più ottimisti anche i single, che sono ancora soli. Lavoro, in questa giornata l'energia sarà abbastanza alta e potrebbe portare buon umore e soddisfazioni. Capricorno, amore, lo stato d'animo non sarà dei migliori e infatti la settimana partirà con qualche tensione nella storia d'amore. Con il partner potrebbero esserci delle discussioni da affrontare. Occhio anche ai single, che non saranno così tranquilli. Lavoro, ci sarà dell'agitazione in campo e potrebbero nascere problemi con colleghi. Acquario, amore, questo lunedì di fine marzo sarà abbastanza piacevole e le stelle potrebbero regalare qualche bella emozione. Non si escludono per cui nuove e interessanti conoscenze per i single incercali un nuovo e intenso sentimento. Lavoro, grande giornata in cui potrebbero esserci novità ma soprattutto entrate gratificanti. Pesci, amore, l'umore di questo lunedì non sarà proprio dei migliori e sicuramente potrebbe andare meglio. Sarà importante non farsi prendere troppo dalle energie negative per non avere disagi e problemi anche con i rapporti e i sentimenti. Lavoro, potreste sentirvi un po' confusi e le energie non saranno troppo alte. Impegno ed edizione. Se il video ti è piaciuto metti mi piace, registrati al canale e clicca la campanella per ricevere tutti gli aggiornamenti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.